Questa conversazione è dedicata a Stalin, un uomo che si chiamava Yosef Vissarionovic Giugasvili, il cognome è tipicamente giorgiano, di una delle repubbliche che facevano allora parte dell'Unione Sovietica, che all'epoca era il più grande Stato della terra per estensione e uno dei più potenti militarmente e politicamente. Stalin dominò quell'enorme Stato dal 1925-26 fino al 1953 quando morì e fu un tiranno, un dittatore sotto la cui dittatura morirono milioni di persone, in parte per sua volontà, in parte anche per le numerose stupidaggini che commise nella sua vita. Era un uomo, insisto su questo punto perché noi tendiamo spesso a trattare i personaggi come Stalin, come Hitler, come Mao, quasi che fossero dei mostri, dei diavoli, delle persone del tutto diverse da noi. No, non erano per niente diversi da noi, erano esseri umani come noi. Quello che loro hanno fatto può essere fatto da noi stessi. Quello che fecero alcune persone sotto i loro ordini, diventare aguzzini di altri esseri umani, possiamo farlo anche noi, se messi nelle circostanze. Quindi non stiamo parlando di un diavolo e stiamo parlando di che cosa vuole dire essere Stalin, ma anche che cosa vuole dire essere sotto Stalin, vivere nell'epoca staliniana come carnefici e come vittime, qualcuno come carnefice prima e come vittima dopo. Ecco, Stalin era il dittatore, perché era il segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica che dominò su milioni di persone. Ed era un personaggio a cui furono dedicati poemi, statue, quadri, film. Era un personaggio altamente visibile. sentiamo per esempio una poesia che gli venne dedicata. Viviamo senza fiutare il paese sotto di noi. I nostri discorsi non si sentono a dieci passi. Laddove c'è spazio per mezzo discorso, là ricordano il montanaro caucasico. Le sue dita tozze sono grasse come vermi e le parole che pesano decine di chili sono veritiere. Ridono i baffetti da scarafaggio e brillano i suoi gambali. E intorno a lui una marmaglia di capetti dal collo sottile si diletta dei servigi di mezzi uomini. Chi fischia, chi miagola, chi frigna, appena apre bocca o alza un dito. Come ferri di cavallo forgia decreti su decreti. A chi dà nel linguine, a chi sulla fronte, a chi nelle sopracciglia, a chi negli occhi. Ogni morte è per lui una cuccagna. E l'ampio petto di Montanaro del Caucaso. Questa poesia fu scritta da un grande poeta, Osip Mandelstam. Un poeta che quando la scrisse si pensava che avrebbe tessuto un elogio di Stalin, ma come avete sentito era uno strano elogio. Era un elogio carico di amarezza, anche un po' di senso critico e anche di feroce ironia. Perché Mandelstam era uno spirito libero e anche quando avrebbe dovuto tessere le lodi di Stalin non ci riusciva del tutto. Ma Stalin non era uno a cui questo potesse sfuggire. Infatti Mandelstam morì in uno dei lager fatti costruire da Stalin. Era molto attento alla sua immagine il dittatore. Molto attento alla sua immagine non solo nell'Unione Sovietica, ma man mano anche negli stati che l'Unione Sovietica dopo la Seconda Guerra Mondiale avrebbe conquistato dalla Romania all'Albania, dalla Polonia all'Ungheria. In tutti questi stati si doveva celebrare e idolatrare Stalin. Era una figura onnipresente. Mandelstam una volta disse a sua moglie perché quando penso a lui mi trovo di fronte tutte quelle teste, montagne di teste. Che cosa se ne fa a lui di tutte quelle teste? Il ritratto di Stalin era assolutamente dappertutto. Una presenza ossessiva perché a volte ai dittatori non basta il potere, non basta essere celebrati, non basta essere adulati. Bisogna che si moltiplichi la loro presenza. e infatti di Stalin c'erano dappertutto ritratti, film e c'erano anche tante statue. Adesso sentiremo un brano da uno strano romanzo, si chiama Il fedele Ruslan di Gheorghi Vladimov. È un romanzo che parte da un'idea molto intelligente e molto originale, quella di fare raccontare lo stalinismo non da una persona, ma da un cane. È un cane particolare, un cane da lager, un cane di quelli che tenevano a bada i prigionieri dei campi di concentramento. In questo brano il cane da lager racconta nel suo linguaggio una statua dove sono rappresentati insieme Stalin e Lenin, il primo dittatore dell'Unione Sovietica di cui Stalin prese il posto. In mezzo alla piazza c'era una cosa che Ruslan aveva visto per la prima volta durante l'addestramento. Due uomini che non si muovevano, del colore delle scodelle di alluminio in cui mangiava la zuppa. Per qualche motivo si erano arrampicati sopra un piedistallo e sembravano impegnati in una scena. Uno senza cappello aveva il braccio teso, la bocca aperta come se avesse appena lanciato il bastone e dicesse, vallo a prendere. L'altro con un berretto a punta non indicava in nessuna direzione ma aveva spinto la mano nella sua giacca militare. Dallo sguardo si capiva che la cosa lanciata dall'altro, qualunque fosse, doveva essere riportata a lui. Tre anni dopo la morte di Stalin, nel 1956, il suo successore Nikita Khrushchev denunciò già il regime di Stalin come un regime dittatoriale e che aveva commesso dei grandi crimini. Per spiegare però al popolo sovietico e al mondo perché, nonostante i crimini di Stalin, si sarebbe continuato con un regime comunque dittatoriale. Khrushchev spiegò che Stalin aveva esagerato, che Stalin non era stato semplicemente un governante, sia pure duro e deciso, come intendeva essere lui stesso Khrushchev, ma qualcosa di peggio. Era stato un governante che si era fatto idolatrare. Aveva instaurato quello che veniva chiamato il culto della personalità. Tutti questi monumenti, tutte queste statue, una forma quasi mistica di adorazione. Bisognava abolire il culto della personalità e mantenere magari lo stesso regime comunista su cui aveva regnato Stalin. Ma il problema non era solo il culto della personalità. Il problema nella Russia sovietica, come in tutte le dittature e in parte anche nelle democrazie, era il potere. Quello che interessava a Stalin era il controllo totale dello Stato. Per questo aveva uno strumento assolutamente straordinario che era stato inventato da Lenin e che in forma diversa sarebbe stato usato anche da dittatori di tutt'altro genere. Quello che veniva chiamato il partito unico. La parola partito unico sembra quasi una contraddizione perché la parola partito nasce dal fatto che l'opinione pubblica è ripartita, divisa in parti diverse. Però se unico evidentemente questa ripartizione, questa divisione non c'è. Il partito unico è una macchina che tiene la popolazione in stato di perpetua mobilitazione contro un nemico, anche se questo nemico in realtà in parte è immaginario. I nemici del partito unico possono essere i traditori, le spie, gli stranieri, tutti, purché si mantenga continuamente in stato di mobilitazione un intero paese sotto il potere del partito e di chi lo guida, in questo caso di Stalin. Il partito unico staliniano era fatto per il potere di una persona soprattutto che non si fidava di nessun altro perché uno dei problemi di Stalin era soprattutto la sua totale diffidenza nei confronti di chiunque, del popolo che era chiamato a guidare e che rappresentava almeno a parole come dei suoi stessi compagni di partito. Uno a uno stalin fece fuori gran parte delle persone che lo avevano sostenuto nella sua ascesa al potere. Uno a uno anche perché per quanto gli gridassero la loro sincerità e la loro onestà lui non credeva a nessuno. Sentiamo un impressionante episodio, questa non è letteratura, questa è storia vera, un impressionante episodio di un confronto tra Stalin e Nikolai Bukharin, uno dei fondatori del partito comunista di cui Stalin era il segretario e che continuava a protestare la sua onestà mentre Stalin gli diceva che la sua sincerità non contava niente, che quello che contava era la verità oggettiva che era naturalmente la verità in cui credeva Stalin, l'unica verità in cui credeva nessuno era veramente onesto con lui. 4 dicembre 1936 Stalin dice Bukharin non ha alcuna idea di quel che succede qui, nessuna. Non capisce in che posizione si trova né perché il plenum sta discutendo il suo caso, parla di sincerità e chiede fiducia? Allora va bene, parliamo di sincerità e fiducia. Kamenev e Zinoveth hanno dichiarato la loro sincerità e poi tradito la fiducia del partito. Piatakov ha offerto prove della sua sincerità occupandosi personalmente delle esecuzioni dei presunti terroristi, inclusa sua moglie e poi ha tradito la fiducia del partito. Così questa è la situazione in cui ci troviamo compagno Bukharin, non dico niente su di te personalmente, puoi avere ragione oppure no, ma non puoi stare qui e lamentarti che la gente non ha fiducia o fede nella tua sincerità, è roba vecchia. Gli eventi degli ultimi anni dimostrano che la sincerità è un concetto relativo. Lo stalinismo fu un esperimento, fu un esperimento perché non c'era mai stato prima di Lenin che fece la rivoluzione di ottobre nel 1917 uno Stato che si proclamava comunista, ma un esperimento anche perché era uno Stato profondamente nuovo da certi punti di vista, guidati da un partito unico, con un progetto di controllo totale sui suoi sudditi, sugli esseri umani. Questo esperimento non poteva fallire perché nessuno si sarebbe mai rassegnato al fallimento, a cominciare dal dittatore, quindi piuttosto che dichiarare che era fallito o che accettare anche un minimo errore o fallimento, in parte si mascherava la realtà, in parte si forzava l'azione politica ancora maggiormente. Questo esperimento richiedeva un'accettazione passiva da parte di milioni di persone. E qui entra in gioco qualcosa di molto importante che è stato spiegato da un grande scrittore e da un grande testimone, primo Levi, nato nel 1919, prigioniero ad Auschwitz, dal 1943-44 fino all'inizio del 45 e che ha scritto alcuni libri importantissimi per capire un altro totalitarismo, quello nazista. Ma queste parole che sto per dirvi valgono anche per lo stalinismo. Diceva Primo Levi che il nazismo era caratterizzato dal disconoscimento della solidarietà umana, dall'indifferenza ottusa e cinica per il dolore altrui, dall'abdicazione dell'intelletto e del senso morale davanti al principio d'autorità e principalmente alla radice di tutto da una marea di viltà. Una viltà abissale in maschera di virtù guerriera, di amor patrio e di fedeltà a un'idea. Ecco, una viltà abissale in maschera di una virtù guerriera. Anche lo stalinismo era pieno di eroi, gli eroi del lavoro, coloro che si uccidevano a furia di lavorare, così come gli eroi celebrati nella seconda guerra mondiale. Però l'aviltà era una componente essenziale di questo esperimento. Il fatto che la grande maggioranza della popolazione non osava ribellarsi, e questo poteva nascere da semplice paura, ma anche il fatto che una parte consistente della popolazione non si limitava a obbedire per paura, denunciava i propri vicini e i propri amici, cadeva in tutte le trappole tese dallo stalinismo per rendere le persone docili e in qualche misura incapaci anche semplicemente di pensare pensieri ribelli, non solo di ribellarsi. Questo esperimento che fu reso possibile anche da una marea di viltà, era fatto anche di tanti diversi tentativi di provare nuove strade e di schiacciare possibili rivolte. Uno dei più terribili tentativi di questo tipo si verificò nel 1931-32 in uno degli stati sovietici, che adesso è uno stato indipendente, l'Ucraina, dove morirono letteralmente milioni e milioni di persone di fame. Questo esperimento dell'Ucraina di quel periodo, qualcuno dice che sia stata una semplice e oggettiva e inevitabile acalestia naturale, qualcun altro sostiene che è stato un vero e proprio genocidio voluto da Stalin contro una popolazione, quella ucraina, che non era considerata del tutto affidabile. In un romanzo tutto scorre, uno dei più grandi scrittori russi del Novecento, Vassili Grossman, fa raccontare questo terribile esperimento a un personaggio, una donna che era una funzionaria del Partito Comunista e che, alla morte per fame di migliaia di persone, nel romanzo assistette senza fare niente, ma sentendone tutto l'orrore. Da questo momento in poi sentiremo man mano diversi brani di questo racconto. È un racconto violento e terribile, ma credo che sia uno dei brani letterari che più insegna che cosa è stato l'orrore del ventesimo secolo. La superficie coltivata si era assai ridotta e il rendimento si era abbassato. Dai bilanci risultava invece che la nostra vita era fiorita di colpo. Il Soviet del villaggio mentiva col distretto, il distretto con la regione, la regione con Mosca. Tutto come si deve. Il centro fissava allora le quote alla regione, la regione ai distretti. E a noi nel nostro villaggio fissarono una quota che neanche in dieci anni avremmo potuto raggiungere. Chi firmò quell'assassinio di massa? Spesso io penso che non sia stato Stalin. Penso. Un ordine simile da quando esiste la Russia non è mai stato dato. Un ordine così non l'aveva firmato mai né lo Zar, né i Tatari, né gli occupanti tedeschi. Uccidere per fame i contadini dell'Ucraina, del Don, del Kuban. Uccidere loro e i loro bambini. Un'ordinanza che diceva di requisire anche tutto il grano riservato alla semina. Lo cercavano come se non fosse grano, ma bombe, mitragliatrici. A certuni sequestravano il grano che avevano in casa dentro un vaso, una tinozza. A una donna sequestrarono il pane che aveva cotto. Lo caricarono sul carro. E portarono sul distretto anche quello. Fu allora che capì. Per il potere sovietico prima di tutto viene il piano. Esegui il piano. consegna la quota prescritta, la fornitura. In primo luogo lo Stato. La gente. Zero. Meno di zero. Tutto posso raccontare. Solamente che nel racconto sono parole. Mentre lì era vita. Sofferenze. Morte per fame. Gli stermini di massa dello stalinismo furono diversi. Uno fu quello dell'Ucraina, su cui abbiamo cominciato a sentire la tragica testimonianza del romanzo tutto scorre di Vassili Grossman. Ma moltissimi morirono nei campi di concentramento. Il sistema dei campi di concentramento ci fu nella Russia di Stalin come ci fu nella Germania di Hitler. Era per la Russia una vecchia tradizione, la Siberia del periodo zarista in cui venivano mandati tanti dissidenti socialisti, eccetera, e di cui ci hanno lasciato testimonianza grandi scrittori come Dostoievski. Ma c'è una grande differenza. In Siberia si viveva male, ma si viveva. In campi di concentramento staliniani almeno una parte di loro erano fatti per uccidere. Molti dicono Stalin ha fatto i campi di concentramento, ma non i campi di sterminio, come Hitler doveva le persone venivano uccise col gas e poi le loro ceneri spedite nel fumo e nel vento. Non è esattamente così. Nei campi di concentramento della fascia artica, e molti dei lager staliniani si trovavano nella fascia artica, con temperature che d'inverno arrivavano ai meno 40 gradi e magari d'estate erano caldissime. Quando per vestirsi si aveva solo una camiciola, la morte era sicura quanto lo era in un lager nazista. La vita media dei detenuti in un lager della Calima, la zona artica dei lager, era di una settimana. Erano luoghi di sterminio, solo che si lasciava più fare alla natura e si aveva meno bisogno di ricorrere alla chimica. In questi campi di sterminio si moriva per il freddo e si moriva anche per la fame, una fame anche lì terribile. C'è uno dei grandi libri testimonianza del ventesimo secolo, Arcipelago Gulag, Gulag era il nome del sistema dei lager staliniani. Uno di questi libri, Arcipelago Gulag di Solzhenitsyn, che parla appunto del sistema dei lager e in questo libro, all'inizio, nelle primissime pagine, si racconta un episodio curioso che all'inizio può far sorridere e poi ci far abbrividire. L'anno 1949 ci capitò sotto gli occhi a me e ad alcuni amici una curiosa nota nella rivista Natura dell'Accademia delle Scienze. Vi si diceva in minuti caratteri che in riva al fiume Colima, durante gli scavi, era stato trovato uno strato sotterraneo di ghiaccio, antico torrente gelato e racchiusi in esso, esemplari pure congelati di fauna fossile di qualche decina di millenni fa. Fossero pesci o tritoni, si erano conservati tanto freschi, comunicava il dotto corrispondente, che i presenti, spaccato il ghiaccio, li mangiavano sul posto volentieri. Probabilmente i pochi lettori della rivista si saranno meravigliati quanto lungamente il pesce può conservarsi nel ghiaccio, ma ben pochi avranno capito il significato vero, titanico, dell'incauta nota. Noi lo capimmo subito. Vedevamo chiaramente tutta la scena nei suoi minuti particolari, come i presenti spaccavano con accanita fretta il ghiaccio, come calpestando i sommi interessi dell'ittiologia e respingendosi l'un l'altro a gomitate, si strappavano pezzi di pesci millenario, lo trascinavano al falò, lo scongelavano e si saziavano. Lo capimmo perché eravamo tra quei presenti, tra quella possente razza di detenuti unica al mondo, che sola poteva mangiare volentieri un tritone. Colima era infatti l'isola più grande e celebre, il polo dell'efferatezza di quello straordinario paese che è il Gulag. Trovare un tritone preistorico scavando nel ghiaccio, tirarlo fuori e invece di salvaguardarlo per la meraviglia di questa scoperta, mangiarlo immediatamente, visto che il ghiaccio lo aveva conservato. Questo dice quanto violenta potesse essere la fame nei lager di Stalin, nei lager del circolo polare artico. La fame è una delle caratteristiche della Russia staliniana, anche la fame dei contadini di tanti, ma la fame dell'Ucraina del 1931-32 era altra cosa, perché probabilmente era una fame voluta, sicuramente fu una fame assassina di milioni. Chi requisiva il grano? Per lo più i nostri, quelli del comitato esecutivo di distretto o del partito. Beh, il Komsomol e naturalmente la polizia, l'NKVD. Grisha Senko era un poliziotto che aveva sposato una contadina del luogo e la domenica veniva qui a trascorrere la festa. Era un tipo allegro, ballava bene il tango e il waltzer e cantava le canzoni ucraine e campagnole. Gli si avvicinò un giorno un ucraino dai capelli completamente bianchi e cominciò a dirgli, Grisha, ci state riducendo tutti in povertà, è peggio di un assassino questo. Perché il governo degli operai e dei contadini si comporta così con i contadini come neanche lo zar faceva? Grisha gli diede uno spintone e poi andò al pozzo a lavarsi le mani. Disse alla gente, come farò a prendere in mano il cucchiaio dopo aver toccato quel grugno di parassita? La gente non sapeva più che fare e il bestiame si era inselvatichito, si spaventava, muggiva, si lamentava. I cani, i cani ululavano forte la notte e la terra era tutta screpolata. E poi figurati sopraggiunse un autunno senza pioggia e poi un inverno nevoso e niente pane. Né si trovava da comprarlo al centro distrettuale perché c'era il sistema della tessera. E neppure alla stazione si poteva comprare o allo spaccio perché avevano messo dei militari di guardia e non lasciavano avvicinare. Neppure al mercato nero se ne trovava. Sopravenne il terrore. Le madri guardano i figli e cominciano a gridare dalla paura. Gridano come fosse penetrato in casa un serpente e quel serpente la morte. La fame. La gente cominciò allora ad andare da un villaggio all'altro, ognuno chiedendo le lemosine all'altro, i poveri ai poveri, gli affamati agli affamati. Quelli con meno bambini o che erano soli qualcosa avevano ancora. E quelli con tanti figli andavano da loro a chiedere. E qualche volta ricevevano un pugnetto di crusca o un paio di patate. Quelli del partito invece non davano niente. Non per avidità. Non per cattiveria. E che avevano troppa paura. Lo Stato non diede un granello agli affamati. E dire che proprio sul grano dei contadini si reggeva. Stalin lo sapeva tutto questo. Una caratteristica del regime staliniano, come di tutti i regimi totalitari, era la sistematicità con la quale venivano cercati, oltre che trovati, i nemici da colpire, le persone da punire di crimini reali o immaginari. Diceva uno scrittore che non abbiamo citato, Yuri Dombrowski, che la dittatura zarista era artigianale. Quella staliniana era industriale. Per esempio, così come le industrie dello stalinismo, l'industria dell'acciaio o l'industria della stoffa, eccetera, eccetera, si davano degli obiettivi. Quest'anno dobbiamo raggiungere qualche tonnellata in più di produzione e così via. Così si dava degli obiettivi anche la repressione poliziesca. Arrivavano degli ordini a un commissariato di polizia, per esempio, o alla dirigenza di un distretto territoriale. Quest'anno dovete colpire almeno 11.000 nemici del popolo. Almeno 11.000. Se erano di più, evidentemente era meglio. Si raggiungeva ancora di più l'obiettivo. Questo modo di procedere riempiva la popolazione di paura e naturalmente i lager di prigionieri destinati a morire di fame e di freddo nella maggioranza. Abbiamo sentito all'inizio un poeta, Osip Mandelstam, nella sua Lode a Stalin o nella sua Ode a Stalin. Adesso sentiremo il racconto della sua morte, fatto da un altro scrittore, Shalamov. Il poeta stava morendo. Le sue grandi mani, rese gonfie dalla fame, con le bianche dita esangui e le unghie sporche, lunghe, cilindriche, erano appoggiate sul petto e non cercavano più il riparo dal freddo. Prima se le ficcava in seno sul corpo nudo, ma adesso neanche lì c'era abbastanza calore. Le manopole gliele avevano rubate da tempo. Per rubare era sufficiente la sfrontatezza? Lo facevano in pieno giorno. Un sole elettrico smorto, lordato dalle mosche, ingabbiato in una griglia circolare, era fissato al soffitto in alto. La luce cadeva sui piedi del poeta. Egli era disteso come in un cassetto, nell'oscura profondità di un giaciglio, al piano inferiore dell'ininterrotta teoria di tavolaccia a castello. Di tanto in tanto le dita si muovevano, schioccavano come nacchere, tastavano un bottone, un'asola, un buco della giubba imbottita, toglievano granelli di sporcizia e si fermavano di nuovo. Il poeta moriva da così tanto tempo che aveva smesso di capire che stava morendo. Talvolta sopraggiungeva qualche pensiero semplice e forte che si apriva un barco a fatica, dolorosamente, in modo quasi percettibile attraverso il cervello. Gli avevano rubato il pane che si era messo sotto la testa e questo pensiero era così spaventosamente bruciante da far sì che lui fosse pronto a litigare, insultare, battersi, cercare, perorare le proprie ragioni. Ma non aveva le forze per farlo e il pensiero del pane si affievoliva. Immediatamente cominciava a pensare a qualche altra cosa, al fatto che lui e gli altri dovevano essere trasportati al di là del mare, ma che per qualche motivo il piroscafo era in ritardo ed era un bene trovarsi lì. Lui non si era affatto stancato di vivere. Tutta la sua vita passata era stata letteratura, libro, favola, sogno e solo l'oggi era la vita vera. Pensava tutto questo senza animosità, in segreto, in qualche luogo interiore. Le sue riflessioni erano scevre di passione, da tempo era preda dell'indifferenza, che sciocchezze tutte quante che vanno agitarsi a paragone della triste pesantezza della vita. Ma quando gli misero tra le mani la sua razione per le 24 ore, la strinse forte con le dita e sangui, premendosi il pane contro le labbra, morse il pane con i denti indeboliti dallo scorbuto, le gengive sanguinavano, i denti traballavano, ma lui non sentiva nessun dolore, nessuno. I vicini cercarono di fermarlo, non mangiartelo tutto, conservane per dopo, per dopo, e il poeta capì per dopo. Spalancò gli occhi, senza allentare la stretta delle sudice dita bluastre sul pane insanguinato, dopo quando? Articolò in modo chiaro e distinto. E chiuse gli occhi e verso sera morì. Il racconto che abbiamo sentito, naturalmente molto sintetizzato rispetto al testo originale, parla della morte di una persona, una persona con nome e cognome e di una persona celebre. Una delle cose spaventose di tutte le dittature è che provocarono la morte di migliaia, di milioni di persone, anche anonime, persone di cui rischia di non rimanere nessun ricordo, anche se per fortuna esistono dei testi, come quello di Vassili Grossman, che cercano queste persone, faticosamente, quasi disperatamente, di ricordarcele. E quando la neve cominciò a sciogliersi, il paese si trovò sommerso dalla neve fino al collo. Bambini che urlano, non riescono a dormire. Anche di notte chiedono pane. La gente ha la faccia terrea, gli occhi torbidi, ubriachi. Camminano come sonnambuli, tastano la terra col piede, con la mano si sostengono ai muri. La fame fa barcollare. La gente cominciò a camminare meno, a stare sempre più sdraiata e tutto il tempo sembra di sentire il cigolio di una fila di carri. È Stalin, che dal centro distrettuale manda la farina per salvare i bambini. Sembra. In quel periodo non trovavi né un gatto né un cane, se l'erano battuta. E dar loro la caccia era difficile. Avevano paura degli uomini. I loro occhi si erano fatti selvaggi. Ecco i bambini. Hai mai visto sui giornali i bambini dei lager tedeschi? Identici. Teste pesanti come palle di cannone, colli sottili come quelli delle cicogne. lo scheletro era tutto fasciato dalla pelle, tesa come una garza gialla. Bambini con un viso da vecchietto, tormentato. Neanche fossero al mondo da settant'anni. E verso primavera non fu più neanche un viso. Somigliava ora a una testolina d'uccello col suo beccuccio, ora al musetto di una ranocchia, con quelle labbra larghe e sottili. Non erano più visi umani. E gli occhi. Oh signore. Compagno Stalin, Dio mio, li hai mai visti quegli occhi? Può darsi effettivamente che lui non sapesse. Lui che ha scritto quell'articolo sulla vertigine del successo. Il fatto è che Stalin di grano ne aveva. fu dunque premeditatamente che quella gente venne condannata a morire per fame. Che non vollero soccorrere i bambini. Possibile che Stalin fosse peggiore di Erode. È possibile, mi viene da pensare, che abbiano sottratto grano e pane per fare morire la gente di fame. No. Una cosa simile non può essere. Ma poi penso. È stato. È stato. E subito no. Non può essere. Il villaggio cominciò a gemere che vedeva la propria morte. Tutti si lamentavano non col pensiero, non col cuore, ma come le foglie che stormiscono al vento o la paglia che fruscia. Bisogna avere il cuore di pietra per mangiare la propria razione di pane con quel lamento nelle orecchie. Me ne vado nei campi con la mia razione. Tendo l'orecchio. Ancora quel lamento. Vado un po' più in là. Ecco, pare proprio che abbiano smesso. Avanzo ancora. E si sente di nuovo. È il villaggio vicino che piange. Si lamenta. Cominciò una moria generale. Prima i bambini, i vecchi, poi quelli d'età mediana. Sopravenne un gran silenzio. Tutto il villaggio era morto. Noi, che lavoravamo alla direzione del colcio. Ci riportarono in città. Poi alla fine morì anche Stalin. Come dice Solzhenitsyn, improvvisamente si fermò il lento, sporco, vecchio sangue nelle vene della tarchiata e butterata personalità. Siccome era un uomo, un essere emano come noi, morì in fondo come moriremmo tutti noi. Però non si aspettava che pochissimi anni dopo, tre anni dopo addirittura, sarebbe stato denunciato come un mostro, come un nemico dell'umanità. Pensava probabilmente che la sua dittatura sarebbe stata ricordata in eterno e positivamente. Perché forse Stalin pensava addirittura di avere diritto alla gratitudine del popolo sovietico e magari anche di quel popolo ucraino che stava orrendamente massacrando. Fu come non fossero vissuti. Eppure ne erano successe di cose. E amori, e mogli che avevano piantato i mariti, e figlie maritate, baruffe di ubriachi, e ospiti che arrivavano, pane messo in forno. E quanto lavoro, e quante canzoni avevano cantato. E i bambini che andavano a scuola. Perfino il cinemobile era arrivato. Anche i più vecchi andavano a vedere i film. niente è rimasto. Dove è andata a finire quella vita? Dove quelle orribili sofferenze? Possibile che non sia rimasto nulla. Possibile che nessuno paghi per tutto questo. Ma allora sarà tutto dimenticato. Senza una parola. L'erba ha ricoperto tutto. I crimini di Stalin vennero denunciati tre anni dopo la sua morte, ma in realtà nessuno ha pagato veramente per i suoi crimini. Tanti hanno pagato per sua decisione per crimini che non avevano commessi. Ma lui è morto nel suo letto, sembra, e in ogni caso né lui né molti dei suoi più stretti collaboratori hanno pagato, sono stati puniti. Moltissimi crimini sono stati commessi anche dopo Stalin, forse non in quelle dimensioni, forse non in quella violenza, non con quella violenza. Ma nessuno ha pagato per moltissimi di questi crimini. I regimi cosiddetti comunisti, cosiddetti perché si sono comunque allontanati moltissimo da quello che dichiaravano e speravano di essere, i regimi cosiddetti comunisti sono durati ancora parecchi anni dopo la morte di Stalin, 32 anni per l'esattezza. Ma nessuno ha pagato per i loro crimini come nessuno ha pagato per i crimini che sono stati commessi nella Cina di Mao Zedong. Questo forse ci dovrebbe dare da pensare, perché se l'Europa di oggi è piena anche di stati la cui democraticità è dubbia, è incerta e anche per quello. I crimini devono essere puniti, se non vengono puniti alla fine ne generano di altri. Grazie. Grazie.